Non piacevole per il segno dello scorpione, perché è una luna che alimenta anche i sospetti. Voi in questo periodo siete sulla cresta dell'onda, siete delle persone che hanno anche molto successo, però la vostra natura è quella dei detective, di coloro i quali cercano sempre l'indizio che può alla fine portare ad una prova per incastrare qualcuno, perché siete diffidenti, perché non vi fidate fino in fondo delle persone che frequentate, soprattutto a livello professionale in questo momento. Fate bene in alcuni casi ad essere così diffidenti, però mi raccomando, in amore, il fatto di essere troppo gelosi, di essere possessivi, alla fine può portare anche a delle crisi. Quindi tenetelo in considerazione.